Stiamo dentro i capannoni dell'azienda Tecne che ha fornito i mezzi che stiamo distribuendo alla protezione civile, ai comuni, capofila delle aree interne, alle associazioni di volontariato, alle strutture che gestiranno con questi mezzi in maniera più efficace il controllo del territorio e soprattutto il pronto intervento, in particolare con i mezzi che sono stati attrezzati con dei moduli antincendio progettati direttamente dalla Tecne, con, li ha chiamati Poldo anche in ricordo di una persona speciale che aveva questo soprannome che si chiamava Paolo Colli e che uno dei titolari dell'azienda ha potuto conoscere sin da giovanissimo, come è capitato anche al sottoscritto, e che della cultura, della prevenzione dei campi antincendio, del volontariato per dare una mano alle istituzioni e ai territori a respingere spesso gli attacchi che i malintenzionati fanno contro il territorio, incendiando nei giorni più caldi e più ventosi che stiamo proprio nel cuore dell'estate e noi stiamo appunto potenziando la nostra capacità, la capacità del sistema della protezione civile dell'Abruzzo, dell'agenzia abruzzese, con questi mezzi che stiamo consegnando proprio in queste ore. Tanti altri ne abbiamo consegnati nei mesi precedenti e continueremo questa opera di rinnovo del parco mezzi, di potenziamento delle dotazioni della protezione civile per poter avere uno strumento più efficace a tutela della nostra sicurezza.